Il trabocco turchino a San Vito Chiettino è un luogo del cuore, un luogo da non dimenticare. Sono terminati i lavori di restauro che il FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano e Intesa San Paolo, hanno sostenuto con un contributo di 20.000 euro proprio nell'ambito dei luoghi del cuore. Sentiamo il sindaco Migliano Bozzelli. Sì, è un lavoro importante che abbiamo portato avanti nell'ultimo anno, anche se il progetto risale a 2018-2019, quindi prima dell'emergenza Covid. Ovviamente è un progetto del Comune, dell'Ufficio Tecnico, di concerto con FAI Intesa San Paolo che ha contribuito per una buona parte. È un progetto che vale 25.000 euro, è un importo minimo per i lavori pubblici, ma è importante comunque perché ci ha permesso di realizzare degli interventi puntuali di non manutenzione, ma come è proprio nel progetto che abbiamo presentato a FAI Intesa San Paolo, di restauro, quindi di ritorno all'immagine, all'identità originaria del trabocco turchino. Nel 2018 il trabocco turchino, uno dei più belli della costa di San Vito, si è classificato a quarto diecesimo posto nazionale, primo in Abruzzo, nel censimento dei luoghi del cuore. Roberto Di Monte, che è presidente regionale FAI, Abruzzo Molise. È una cosa meravigliosa, è uno sforzo incredibile fatto dai cittadini, non tanto dal FAI. FAI è il promotore di questa campagna, i luoghi del cuore. I cittadini ne approfittano per un qualcosa che è diradicato sul proprio territorio. Aveva oltre 20.000 voti per il trabocco del turchino e oggi con una puntina di orgoglio possiamo dire che l'iter per il restauro è terminato e oggi lo riconsegneremo alla città assieme al sindaco del comune di San Vito Chietino che ha dato molto per questo progetto. A seguire i lavori di restauro l'architetto Marcello Borrone. Certo, con le somme a disposizione, meravigliosamente offerte dal FAI, noi abbiamo in qualche maniera completato la struttura che abbiamo trovato con gli rigidimenti orizzontali al fine di renderla ancora più solida ma sempre nel rispetto della tradizione utilizzando ovviamente materiali tecniche e anche conformazioni geometriche che hanno restituito secondo noi l'antica e originale conformazione geometrica. Grazie.